Io mi credevo che avessero fatto una cosa intelligente, invece pareria, sembreria mi dicono, ma va capire se è vero, dovrebbe essere caduta una signora su quella specie di pedana qui che avevano fatto col verde. Sarà un caso, ma il giorno dopo mi dicono, va capire se è vero, che sono venuti e hanno fatto queste cose sulle quali non si può parcheggiare. Perché se avessero fatto una cosa intelligente, ma insomma mica se poi pretende troppo, non potevano fare altri 5, 6, 7 posti auto con sosta a mezz'ora, a gratis e col disco orario. Come so queste due macchine che stanno qua? Ma insomma, ragazzi, non pretendiamo troppo.